Musica Ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV, edizione di Sondrio. Oggi in apertura le elezioni regionali a stravincere il partito degli astenuti all'affluenza, alle urne è stata del 37,95%, bassissima, prevale il centrodestra, Tiglio Fontana, a Vervio pensate solo il 20% di affluenza. E parleremo del carnevale, del ritorno del carnevale in piazza a Sondrio e a Chiavenna, migliaia di persone si sono riversate nei centri storici e tanti gli eventi in programma. E poi il calcio, la nuova Sondrio calcio ha perso 1-0 in casa del Biassono. C'è attesa per il big match di questa domenica contro l'Arcellasco, seconda in classifica. E dicevamo appunto che a Sondrio a stravincere è stato l'assenzionismo, alle regionali ha votato solamente il 37,95% degli eventi diritti al voto, una disaffezione da parte degli elettori, quasi dimezzati dalla scorsa tornata, quella del 2018, quando in Valtellina e Val Chiavenna andò a votare il 66,27%. Nel capoluogo ha votato il 40,33% degli eventi diritti, i più virtuosi sono stati i cittadini di Albaredo per San Marco con un tasso del 54,14%, mentre Avervio ha votato solamente il 20,76%. Tra i candidati, i presidenti Attilio Fontana per la coalizione di centrodestra e più avanti rispetto a Pierfrancesco Maiorino per il centrosinistra e Letizia Moratti del Terzo Polo, presente ma solo come candidata alla presidenza e senza liste, Mara Ghidorzi di Unione Popolare. Vediamo i servizi. Uffici comunali chiusi già da oggi in segno di partecipazione al lutto per la morte di Vincenzo Galli, il 48enne che sabato è stato travolto da una valanga sulle montagne della sua Livigno. Lo ha deciso il sindaco Remo Galli, che ha disposto per lunedì e martedì mattina la chiusura degli uffici di piazza del comune e anche di tutti gli altri nel pomeriggio di martedì, per consentire la partecipazione alle esequie dell'uomo che si terranno nella parrocchiale del paese alle 14.30. Vincenzo Galli era infatti impiegato del comune di Livigno e molto conosciuto in paese per il suo impegno anche nel mondo delle associazioni, dal coro locale al CAI. Proprio il sindaco, a nome di tutta l'amministrazione e di tutti i dipendenti, ha avuto sentite parole di ricordo per Vincenzo, definito persona al servizio degli altri, sia nel lavoro sia nei gruppi in cui era impegnato. L'incidente in montagna, che ha causato la morte del 48enne, è avvenuto sabato, quando Galli era uscito per fare scialpinismo. Il distacco della valanga, che lo ha travolto, è avvenuto a circa 2.600 metri di quota, fino ai 1.850 metri, dove l'uomo è stato ritrovato in un canale nella zona ai piedi del Monte Motto. A recuperare la salma sono stati i tecnici del soccorso alpino della stazione di Livigno, con l'unità cinofila che ha effettuato la ricerca anche per escludere il coinvolgimento di altre persone. Grande il cordoglio in paese, dove Galli e la sua famiglia sono molto conosciuti. Torna anche quest'anno l'iniziativa Banco Farmaceutico. Come sta andando? Sta andando abbastanza bene, le persone a sondio sono abbastanza generose. Possono scegliere, se vogliono, uno dei farmaci che la farmacia ha predisposto, poi vai al banco, paga il farmaco e lo mette nel cestone. Questi farmaci vanno tutti a delle associazioni che si occupano di persone in difficoltà e che non possono permettersi di acquistare i farmaci, anche semplici farmaci da banco. Quali sono le tipologie più necessarie? Allora, ogni ente che assiste le persone ci fa un elenco di quali sono i farmaci che preferisce e quelli di cui ha più bisogno. Per esempio, questi vanno al centro di aiuto alla vita, quindi abbiamo anche farmaci per bambini, tachipirina, abbiamo farmaci per la diarrea, farmaci per le diverse esigenze anche dei bambini. Da tutti i prezzi e così le persone possono regolarsi anche secondo il proprio portafoglio e la propria generosità. Quali sono le altre associazioni a cui sono destinati questi farmaci? Ce ne sono diverse, in Valtellina, per esempio il Gabbiano, l'Associazione del Contatto, la Centralina, l'Opera di San Vincenzo, la Mensa di Sondrio e tante altre associazioni a cui vanno i farmaci che le persone donano in questa iniziativa. I farmaci vanno direttamente a questa associazione. Come dicevo prima, ogni associazione ci ha detto quali sono i farmaci che preferisce avere a secondo la tipologia delle persone che assiste. È stata una giornata incredibile, non ci aspettavamo tutto questo calore, questa accoglienza, di questo format che l'abbiamo completamente reinventato, non sapevamo neanche noi dove ci avrebbe portato. Io penso che tutti quelli che hanno partecipato, da noi che l'abbiamo ideato, da noi che l'abbiamo condiviso nelle fatiche, ma di tutti quelli che ci hanno detto di sì, che ci hanno detto ci crediamo, ci hanno detto ci proviamo, a quelli che oggi erano magari qua per caso ma si sono goduti una giornata strepitosa. Festa la grande, tanti amici, tante persone che abbiamo ritrovato dopo tre anni e in ruoli anche a volte diversi, che voi non avete visto perché c'erano una serie di giurie nascoste, però è bello così perché il carnevale è questo, il carnevale è improvvisare, creare e becarsi il bello di quella giornata. Spero che vi siate divertiti tutti e spero che l'anno prossimo saremo ancora qui a raccontare una storia bella come questa. Grazie. Oggi è una bella giornata di festa, di sorrisi, è una giornata per passare un po' di tempo spensierati nella nostra bella città, c'è tanta gente, c'è un bel clima di festa, siamo contenti. Partiamo dal carnevale 2023 ma come amministrazione stiamo già preparando e organizzando anche i prossimi eventi per la primavera. Avvistato il lupo tra le vie di Chiavenna all'inseguimento di un cavallo e di una pecora. Era sul carro di Era di Samolaco, vincitore della sfilata di carnevale in città. Dedicato al lupo, anche il carro presentato dall'oratorio di Chiavenna. Animatissime le vie della città grazie all'organizzazione della Prochiavenna e il coinvolgimento di tantissimi volontari. Una sfilata da record in termini di presenza, con migliaia di partecipanti, tanti carri e tantissime maschere che dalla chiesa di San Fedele hanno raggiunto in corteo il centro storico. Oltre ai carri, premiate anche maschere e gruppi. Tra questi sono tornati a sfilare i rappresentanti della festa arcaica di Sueglio che già negli anni scorsi avevano calcato le vie della città del Mera e anche il gruppo di rievocazioni storiche, la Corte del Drago di Colico, con i loro abiti tipici medievali. Quello di Chiavenna è stato insieme al Carnevale dei Ragazzi di Sondrio l'evento di maggiore richiamo di questa domenica, ma sono ancora tanti gli appuntamenti mascherati in programma in Val Chiavenna. Sabato 18 febbraio, novate mezzola e il giorno successivo Campodolcino, Madesimo, Mese e Verceia. Seconda sconfitta stagionale per la nuova Sondro Calcio che si ferma 1-0 in casa del Biassono. Un'incomprensione difensiva dopo sette minuti dall'avvio del primo tempo lascia a bocca asciutta i biancazzurri. La quarta giornata di ritorno di promozione mantiene comunque i valtellinesi in vetta al girone B anche per la concomitante sconfitta della rivale Arcellasco a Calolzio Corte. I ragazzi di mister Fabio Fraschetti partono forte con un colpo di testa di Caballero, parato da Riboldi al quarto, ma al settimo un lancio dei Brianzoli dalle retrovie e trova la difesa valtellinese maldisposta. Rodriguez cerca di uscire su Gallizzi lanciato verso la porta, venendo però beffato da un tocco preciso dell'esterno difensivo Brianzolo. Al ventunesimo è Gonzalo Scudero a provare la conclusione dei venti metri con Riboldi pronto a bloccare terra. Al quarantesimo un tiro di mulette deviato in corner, sul prosieguo dell'azione Lamia a vedersi respingere in modo fortuito col viso dal portiero una conclusione in diagonale dall'area piccola. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il dribbling ubriacante di Busto si conclude con un tiro parato ancora da Riboldi. Nella ripresa al Sondrio torna in campo più determinato ma senza cinismo. Al cinquantaquattresimo una punizione dei venti metri permette a Parapicco di mettere in mostra le sue notte balistiche con la palla che sbatte sulla traversa. Al sessantesimo ancora Busto a calciare dal limite dopo essersi liberato in dribbling di tre avversari. Il biassono si rende pericoloso in contropiede. Al sessantacinquesimo è Cieppi a provare una conclusione a botta sicura dal limite trovando però la respinta provvidenziale di Pietrantonio. Al settantunesimo Parapicco in controbalzo manda la palla sul palo alla destra di Rodriguez. Il forcing dei valtellinesi non dà i suoi frutti e ora la testa va al big match di domenica alla Castellina con l'Arcellasco. Abbiamo pagato un errore individuale all'inizio, abbiamo preso il gol ingenuo e poi siamo stati un po' troppo timidi nell'occupare l'area avversaria nel momento in cui dovevamo recuperare il risultato contro una squadra forte, lo sapevamo, hanno vinto e sicuramente con merito non hanno rubato niente, sapevamo che è una buonissima squadra e dobbiamo alzare la sticella ancora di più durante la settimana perché in questo momento stiamo un po' troppo rallentando, stiamo facendo, al di là che siamo ancora primi, stiamo facendo rientrare in corsa squadre che erano attardate di 6, 7, 8 punti, quindi il campionato è ancora lungo, è ancora in mano a noi il nostro destino, però è chiaro che in questo momento si vedono gli uomini, si vede la voglia di raggiungere questo obiettivo che sapevamo da sempre non essere semplice. Bentornati in studio, questa era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi e buona continuazione sul nostro canale.